effettivamente va avanti così da un po bastone e carota attacchi e promozioni attacchi soprattutto da parte dei regolamentatori da parte dei banchieri centrali ma grandi fondi di investimento che invece s'avvicinano bastone carota e questo movimento qua comporta un po di stato confusionale anche all'interno del mondo cripto effettivamente prima gli attacchi la possibilità di censura e bitcoin te inquina le security si security no la sec le stable coin e poi grandi fondi di investimento che entrano all'interno di questo mondo è tutta una bolla o non lo è solo due anni fa vado a leggere articolo dei bloc vanguard group ha affermato sul suo sito web che le prospettive di investimento a lungo termine delle criptovalute erano deboli evidente che deve aver cambiato idea ora vanguard è diventato il maggior azionista di marathon digital fate attenzione non è che è diventato azionista no stiamo parlando di vanguard group per chi non lo sapesse del gestore patrimoniale da 7,2 trilioni tanti zeri di dollari e possiede ora mezzo miliardo di dollari in azioni sia di riot block chain che di marathon digital che adesso entriamo nel merito giusto per farvi un paragone l'altro grande fondo di investimento qual è il più grande fondo di investimento grande gestore di patrimoni al mondo black rock che ne gestisce 9,5 trilioni di dollari quindi vanguard è un po più poverino perché non gestisce 7 spiccioli però mica male no ebbene vanguard che qualcuno di voi conoscerà per le sue relazioni per i suoi affari in vari campi ha aumentato la sua esposizione presso le società minerarie di bitcoin cosa vuol dire minerarie quelle che producono diciamo così minano come si faceva con loro una volta producono bitcoin come mostrano si legge i documenti depositati lunedì presso la security action commission degli stati uniti aumentando la sua posizione nel settore a oltre mezzo miliardo di dollari spiccioli per loro ma insomma ora c'è di più perché oltre a questo articolo poi mi sono andato a fare una ricerca per capire un attimino qualcosa di più rispetto a questa società e ho scoperto che anche black rock azioni di questa società comunque adesso ci arriviamo ora io una domanda ve la devo fare ce la dobbiamo fare è infatti mi chiedevo è cambiato qualcosa voi che ne dite prima la richiesta di black rock sugli etf e poi tutti gli altri cioè che ha fatto la richiesta black rock e basta settimana scorsa leggo il sio dal nostro blog di black rock le rifinck ha affermato che bitcoin è un asset internazionale ora vanguard ma di più il mese scorso non so se ve lo ricordate l'abbiamo lanciata sta notizia nel libertario show è stato lanciato questo nuovo scambio di exchange di criptovalute sostenuto da nomi importanti come quello di klaus wab come quello di fidelity no e quindi ce lo dobbiamo chiedere che facciamo crediamo a mario draghi che bitcoin non vale nulla chiediamo agli economisti chinesiani italiani che dietro al bitcoin c'è il nulla e invece dietro all'euro c'è mario draghi cioè ci sono i banchieri centrali è possibile chiedersi visto che bitcoin è una truffa se questi signori hanno cambiato idea negli ultimi anni sto parlando con gli economisti italiani ragazzi i rinomati economisti chinesiani a cui chiedo oltretutto se quanto sta accadendo nel mondo sempre a me si è concesso che riusciate ancora ad aprire bocca dopo due anni di inflazione ma la faccia ce l'avete perché la provenienza la faccia ce l'avete per aprire bocca a questi io chiedo dato che l'inflazione era transitoria e poi insomma abbiamo visto che non lo è qual è la soluzione spostiamo il livello dell'inflazione che dovrebbe essere tenuto sotto controllo dalle banche centrali banche centrali al 2 per cento al 3 4 per cento e la risolviamo alla vecchia tarocchiamo le regole perché tanto fin dei conti è questo no che questo sistema è abituato a fare e non è una mia ipotesi ragazzi non so se avete iniziato a leggerla sui giornali non sanno che pespigliare e alcuni economisti hanno capito che ancora il peggio deve arrivare come mai no siamo in questa situazione economica e finanziaria come mai black rock e vanguard puntano ad entrare all'interno di questo mercato ma fai attenzione entrano e acquistano le azioni di una società che ma mina produce bitcoin il giochino si sta rompendo si è attivato il piano b e ora ritorno allo stato confusionale del mondo cripto è necessario distinguere le affermazioni le sceneggiate di nuovi regolamenti di nuove censure soprattutto di riciclaggi vari tramite le cripto e finanziamento e terrorismo cambiamenti climatici causati da bitcoin bisogna distinguere le minchiate dai fatti le affermazioni dei fatti questi anche perché quanto più passa il tempo qualsiasi loro affermazione quella di lor signori diventa sempre più ridicola e il tempo è sempre garantuomo ed è per questo che quindi andiamo a leggere un pochettino secondo i documenti vanguard gruppo aumentato le sue partecipazioni in marathon digital del 60 per cento dal 10,6 milioni di azioni a 17,5 milioni la società di investimento ha inoltre aumentato la proprietà di partecipazioni della società mineraria bitcoin riot block chain con sede in colorato tensione di quasi il 18 per cento investendo in totale 560 milioni di dollari ad oggi riot blocco c'è block chain è quotata al nasdaq ed è il più grande minatore di cripto valute degli stati uniti ma c'è di più perché non sono da soli perché come vi anticipavo poc'anzi il zio di black rock ha affermato che settimana scorsa che bitcoin è un asset internazionale ebbene ci informa che black rock è il secondo maggiore investitore in marathon digital con 8,6 milioni di azioni così giusto così ve lo dico